Buongiorno a tutti ragazzi, lo mio amico sono un video, sono sempre io che guardo, oggi andremo a trovare i miei nipote, ci saranno parte 1, parte 2, parte 3, non si chiamò, vedrò, sono le 8 del mattino, e niente, vi aggiorno per come va la situazione, oggi vado a trovare i miei nipote, perché non so se fare parte 1, parte 2, eccetera, però poi vi faccio sapere, sono un compagno del cano, per lei, ci chiamiamo gli ultimi anni, però non sono qui a raccontarvi i cavoli miei, però non fanno niente, ci aggiorniamo.